La mafia a Roma? C'è la mafia a Roma? Sì, c'è la mafia a Roma. Ma quando mai? Ma come è successo? Ragazzi, fare gli asfalti di Marzapane ha un costo. Ci sta un'agenzia fatta apposta che fa le buche per strada. Basta lamentarsi, le buche costano. E le indagini? Come ora hanno smantellato questa organizzazione, sarà stato difficilissimo. No, no, le bustarelle c'erano proprio il logo del comune di Roma. Renzi fa il vago. Che succede? Se lei si riferisce alla vicenda... A quale? Ma chi era coinvolto? Manca Jack lo squartatore, il mostro di Lopinus e poi ci sono tutti. Renzi azzera il PD romano e il suo fake twitta. Con Orfini commissario a Roma gireremo un nuovo poliziottesco. E se Roma ha deluso, spostiamo la capitale a Firenze. Ma anche il Nord ha i suoi problemi. Salvini posa nudo e fa sognare la rete. Qualcuno parla addirittura di Rinascimento Padano. Sarà colpa delle felpe? Roma, Milano, Lombardia e quella per il tour del mezzogiorno. Il web si esalta per le ascelle di Salvini. Partono proposte per riunificare il centrodestra. Ci si potrebbe fare un parrucchino per Alfano. Ma se guardi per le ascelle di Salvini, c'è la speranza dei popoli padani. Perché quei temi delle ascelle di Salvini, vuoi catturare criminali e clandestini. E scansi si chiede. La mia curiosità è Salvini, ma tu esattamente quando lavori? Ma questo era il passato. Signor Matteo Salvini. Matteo Salvini. Da? Milano. Da Milano. Milano. Di professione? Di professione nulla facente, iscritto all'università. Intanto la televisione si lascia andare. Vauro e Storace le sparano grosse. A me hanno sparato. Mi ha avuto la fortuna che i tuoi compagni non mi hanno ammazzato. Hai capito? La prossima volta le dirò di mirare meglio. Morgan non ha più parole. E Santoro ce li manda tutti. Fan culo i partiti, fan culo i politici, fan culo Berlusconi, fan culo Monti, fan culo Alfani, Fini, Casini, Vendola, fan culo e fan culo Renzi. Ma non troppo. Diamo il benvenuto a Luciano Violante. Buonasera. Presidente della Camera, magistrato che si è occupato di terrorismo e anche presidente della Commissione Antimafia. Presidente Violante, le faccio subito vedere cosa è successo venerdì a Roma. Marino, non sono i migliori di bussi, tieni! Non sono i migliori di bussi! Fuori la mafia dallo Stato! Fuori la mafia dallo Stato! Fuori la mafia dallo Stato! Ce chiedete la tassi, ce chiedete, vergognatemi! Vergogna, vergogna, vergogna! Non ci provate più, eh! Ce l'ha in tasca il contributo del Consiglio! Ma hanno tirato le monete! Tirano le monete, tirano! Ai lavoratori tirano le monete! Sardino! Sardino! Sardino!